ma è l'acqua forzata come lo dico questo è quello che ha detto non lo dico, ma è l'acqua forzata ma è l'acqua forzata come stavano giuando in casa a metà con la carne non lo dico, non lo dico non lo dico, non lo dico a bere, vieni a giù, questo è coperto a bere, vieni a giù questo è di nuovo, lì per l'amerson, l'angelo ok, non lo dico non lo dico non lo dico come è rovescio la 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 non lo dico ciao par ora siamo a ottobre del 2007 ottobre del 2008 come facciamo? quando avete visto? come avete visto? come avete visto? però quando avete visto? proprio ma non ho mai limite ho visto una cassa di pepsi ma non ho visto come ho visto il carvon dove ho visto? adesso è buono ora ci fanno una cosa ma vabbè vero non ho visto la mia bilana non ho visto la mia bilana ma comunque chi è stato mostrato i primi? Piero! Piero! Acqua pezzante! Ma quanto costa un pochino? Quanto costa? Un'ultima, solo io, c'ho acqua. Quindi no, varia, adesso coperta. E' domenico, coperta? E' domenico? Domenico dice, fa domenica, nord passazione, rovescio, comitato. No, comitato! E' insalato il telefono, 5.300. Un'ultima, 5.300. Com'è doveva? La volta non passa qui. La stima, non mi dice anche a te. C'è io, con il motodolo, e' un peserino cazzo. E' un peserino. E' un peserino. E' un po' il peserino. E' un po' il peserino. E' un peserino cazzo. E' un peserino cazzo. Quanto ha la vostre? Si, quanto cambia. E' un peserino. Mi hai assicione, mi riesco a prendere peserino. E lo stai giocare, sei quanto le vitam конт quando la costecchia ti fai a p***a? 10 euro? si dice si mandai e si doveva e tu? non ci puoi prendere? non ci puoi prendere non puoi prendere puoi prendere? piero vieni a p***a come sei tu? chi è te? tu non prendi c'è la p***a dai nascolti Oh, ma non mi vuoi? Ahahahah Io non ti voglio Vieni che tu bambini, hai una vingenza Vieni come la bamba, guarda Vieni e io e io Sì